...manovrando queste marionette che pesano da 15, 20, 25 kg. Se qui siamo 5 persone, di là sono più di 10. In Italia, per fare un show, ci sono circa 5 persone. In Qatari, ci sono 10 persone. Perché ci sono altre persone che registrano dei patti, e altre persone che portano queste marionette. Perché ci sono molto importanti. Perché le persone che muovono, che controllano i patti, non hanno delle voce a loro patti. Quindi hanno bisogno di due più persone per fare voce. E perché le patti sono così grandi, che le persone non possono fare voce a loro patti. non hanno delle voce a loro patti. La caratteristica di questa notte di Palermo è che la nostra marionetta sguina la spada, abbassa la visiera e si possono anche inginocchiare. Sì, un'altra differenza tra Palermo e Catania è che qui in Palermo, si possono lasciare la spada, o prenderla la volta, e si possono anche movere i piedi, e prenderla i piedi, e prenderla i piedi. Quelli sono al contrario, hanno la visiera semplissata, la spada semplissata, elegante e rigida. E' un'altra differenza è che qui in Palermo si possono mettere i piedi o mettere i piedi o mettere i piedi. In Catania non possono fare questo, e non possono lasciare i piedi. È sempre in i piedi, e non possono anche prendere i piedi. i piedi. Le gambe rigide sono dovute perché pensano moltissimo che si appoggiano in queste gambe rigide. Il motivo per cui non possono prendere i piedi è che sono così piccoli. Inoltre per prendere un po' di resta non possono lasciare i piedi a stendere. L'episodio che noi vediamo è un episodio della storia di Carlo Bagno, la battaglia di Orlando e Rinaldo per l'amore di Angelica. Il show di questa mattina è relato con Carlo Bagno e è la battaglia di Orlando e Rinaldo per l'amore di Angelica. La battaglia di Orlando e Rinaldo per l'amore di Angelica. Sì, è la battaglia di Orlando e Rinaldo per conquistare la amore di Angelica. Alla fine dello spettacolo la scena della madre nente la faccia vedere quanto pesa e come si muove. Alla fine di questo video a fare un po' di questo video e a vedere come funziona e come funziona e come funziona.